Quando vedo Milano che vive, io godo. Mi chiamo Giovanni Giorgio Maroder, però mi chiamano Giorgio e questa qua è la mia prima canzone e andiamo via. 200 foto su Instagram, 350.000 utenti web, 25.000 iscrizioni su Facebook, 14 performance teatrali, 130 relatori, 12.000 parteciperò su Facebook, 35.000 utenti in streaming, 9 cupole geodetiche, 50 ore di video, 80 persone di staff, 87.000 partecipanti, 15 laboratori e workshop, 4 bombe carta, 750.000 pagine web visitate, 5 concerti, 40 ore di festival. We love you, love you baby.